Quel pallino verde Che ti dice che l'altro è online, che è lì come te, di fronte allo schermo. Che cosa provava quando vedeva quel pallino verde? Direi conforto. Una boccata di ventoli per respirare meglio. Sono molto brutta e molto vecchia. Eccitazione. Magari guarda quello che stai facendo. Le foto che commenti, la musica che ascolti. È pazzesco se ci pensa quello che si può scoprire di qualcuno. Ista? Ista? Social network, condivisione di foto e video, piattaforma mobile. Non è nel mio stile fare come tutti. Il mio profilo migliore, dal 17 ottobre al cinema.